Via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Sicurezza, il provvedimento approvato all'unanimità Festeggia su Facebook il Ministro dell'Interno Salvini, Decreto Sicurezza, alle 12. 38. Il Consiglio dei Ministri approva all'unanimità. Sono felice. Un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura. . Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un'immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profumi, per togliere la cittadinanza ai terroristi, per dare più poteri alle forze dell'ordine. . Dalle parole ai fatti, io vato avanti. Il Premier Giuseppe Conte precisa in conferenza stampa, non tacciamo dall'Italia dall'oggi al domani nessuno ma andremo a rendere più efficace anche il sistema dei rimpatri, perché altrimenti il sistema crea una discrazia tra quello che deve essere e la realtà, se non governiamo la realtà, ci sopravanza. . La protezione umanitaria.Uno dei punti contestati dell'accoglienza è la valutazione dei motivi umanitari. Continueremo ad assicurare il sistema di protezione, evitiamo solo gli abusi. In Italia c'è stata accoglienza indiscriminata e la normativa ha secondato tutto questo, ha assicurato Conte. . Ma la protezione si darà solo alle vittime di grave sfruttamento lavorativo, alle vittime di tratta, alle vittime di violenza domestica, di calamità naturali, chi ha necessità di cure mediche e chi è stato protagonista di atti di particolare valore civile. . Togliere la cittadinanza a chi è stato condannato per reati di terrorismo è assoluto buonsenso. . In caso di condanna.Un altro punto chiave del decreto è quello che riguarda. . 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